Propongono un regolamento sul bilancio partecipativo i consiglieri comunali di San Cataldo, Francesca Cammarata e Marco Imera del gruppo Partito Democratico e Mario Lupi, Cacchiera Fulco e Massimo Emma del gruppo Le Spighe. Fanno riferimento all'articolo 6 della legge regionale numero 5 del 2014 e ancora parlano del regolamento. Si teme infatti che si possano perdere le somme e non spese. Non possiamo permetterci di perdere fondi utili a progetti per la collettività, affermano i consiglieri comunali del PD e delle Spighe. Dobbiamo cogliere inoltre tutte le opportunità per coinvolgere i cittadini a partecipare direttamente al governo della città. Il bilancio partecipativo è un'occasione per ridurre la distanza sempre più ampia tra le persone e le istituzioni, aggiungono, dando la possibilità a enti, associazioni e singoli cittadini di proporre soluzioni innovative per San Cataldo. I progetti presentati dopo l'emanazione di un avviso pubblico previsto da regolamento proposto verrebbero poi sottoposti ad una valutazione di fattibilità tecnico-giuridica da parte degli uffici competenti. Si prevede anche il coinvolgimento della cittadinanza attraverso una votazione e infine, a seguito della pubblicazione dei risultati, l'amministrazione dovrebbe impegnarsi alla loro realizzazione. Tra gli articoli di regolamento, anche una previsione specifica per il monitoraggio dei progetti proposti, si precisa ancora, e la pubblicità delle modalità di partecipazione al bilancio.